No, perché vogliamo fare venti di cuore. Perché sono i centimitri di mio dio. Perché sono i centimitri di mio dio. Non puoi saperlo. Grande Sara! No, no! Mi piace! Arruc, che stup, perché lui è uno cazzato. E l'ho scusato. Non è capace, non è capace, non è capace. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.